buongiorno a tutti e benvenuti a questo episodio extra dei racconti dal nascondiglio io come sempre sono nicola e oggi parleremo delle brigate garibaldi brigate che spesso ricorrono nei racconti delle missioni ma purtroppo non c'è mai stato il tempo per approfondire davvero l'argomento e vi prometto anche che questo è l'ultimo dei questi episodi extra dalla prossima settimana torneremo ad occuparci delle missioni però insomma mi sembrava opportuno fornire un altro po di contesto come ho già detto agli episodi raccontati nei racconti dal nascondiglio in questo episodio poi darò per scontate alcune cose che ho detto nell'episodio precedente che riguardava le brigate partigiane in generale quindi spero che abbiate fatto i compiti ad ogni modo non soffermiamoci oltre sull'introduzione ed entriamo subito nel vivo dell'argomento dunque le brigate garibaldi formazioni organizzate dal partito comunista italiano il pc la massa finale delle garibaldi era imponente la loro organizzazione ramificata e complessa in totale i garibaldini misero sul campo 575 formazioni fornendo circa la metà dei combattenti della resistenza italiana fu quindi necessario dotarsi anche di un servizio di collegamento composto per la maggior parte dalle famose staffette partigiane che abbiamo citato tante volte e in verità come abbiamo visto più volte nei nostri racconti nonostante il coraggio delle staffette intelligence e collegamento erano punti debolissimi dell'organizzazione partigiana e venivano facilmente mandati all'aria dal nemico causando spesso la crisi delle bande che venivano poi isolate e quindi rastrellate tuttavia nelle condizioni in cui si operava quel poco che si riuscì a fare fu davvero notevole le garibaldi furono le formazioni che pagavano anche il prezzo più alto nella guerra di liberazione contando 42.000 morti e 18.000 traferiti mutilati e invalidi quasi a tener fede a quel d'assalto che le qualificava e iniziamo proprio dal nome prendendo poi in esame ogni elemento singolarmente brigate d'assalto garibaldi ora il termine brigata l'abbiamo detto la settimana scorsa si rifà alla struttura militare dell'esercito ed è sicuramente voluto per dare all'organizzazione un tono marziale piuttosto che l'immagine di piccole bande di sabotatori ovviamente l'abbiamo detto le condizioni materiali della guerra partigiana che comportavano la necessità di muoversi molto e affrontare problemi di vestiario approvvigionamento e chi più ne ha più ne metta impedivano che questo nome si traducesse in una vera struttura rigida come quella di un esercito le bande partigiane quindi si espandevano e contraevano a seconda della necessità e le garibaldi non facevano eccezione a volte si riducevano a poche decine di combattenti e a volte si raggrupparono in divisioni o in gruppe di brigade come nel caso del gruppo di brigade vittorio veneto che potete trovare nella puntata della ruina detto questo passiamo poi alla seconda caratterizzazione del nome d'assalto il termine era stato scelto per fugare ogni dubbio su cosa queste brigate dovessero fare tutta la storia della resistenza infatti e soprattutto i primi mesi è segnata da una lunga polemica sul cosiddetto attesismo ovvero l'accusa mossa questa o quella formazione di non ingaggiare il nemico ma semplicemente nascondersi in montagna in attesa appunto che la liberazione arrivasse da sé un problema che comunque si poneva anche alle missioni di collegamento britanniche perché nella ripartizione del materiale che veniva lanciato i partigiani bisognava assicurarsi che questo materiale andasse a brigate che effettivamente poi lo usassero e non semplicemente si trincerassero in montagna con i loro fucili senza mai scendere ed è forse proprio per questo motivo che troviamo così tanti agenti britannici che lavorano a così stretto contatto con le formazioni comuniste perché alla fine queste erano le più attive specificare dunque in questo contesto che le brigate garibaldi fossero d'assalto serviva proprio ad allontanare questa immagine dei partigiani rintanati in montagna a girarsi i pollici nelle parole di luigi longo dirigente del pc e uno degli organizzatori delle brigate garibaldi queste sono create per l'azione armata per l'assalto per l'attacco audace perché si danno un'organizzazione e una disciplina di ferro adeguate ai compiti che si pongono nella pratica poi anche i garibaldini riuscirono a capire molto bene quando era opportuno agire e quando invece occorreva aspettare per non farsi massacrare inutilmente ma questo è tutto un altro paio di maniche infine garibaldi il richiamo qui è duplice da una parte alla brigata di volontari italiani che combatterono in spagna durante la guerra civile spagnola e che adottarono quel nome ma ovviamente il richiamo originario e quello all'eroe risorgimentale di cui le brigate adottarono anche un certo simbolismo con fazzoletti rossi legati al braccio e stelle rosse cucite sui berretti certamente questi simboli rimandavano al rosso quale colore storico del socialismo internazionale ma non sfuggivano alla suggestione delle camicie rosse garibaldine originali e l'arrivo del pc a una propria rielaborazione dei miti del risorgimento in chiave proletaria fu un processo lungo e travagliato che purtroppo non possiamo riassumere cui ora in ogni caso nel 1943 quando furono formate le brigate garibaldi questo processo si era ormai compiuto e la figura di garibaldi stesso è ormai divenuta il simbolo di risorgimento popolare tradito dalla borghesia e dall'aristocrazia piemontese ed italiana che avevano represso gli aneliti di libertà della popolazione e l'identificazione garibaldino risorgimentale fu molto forte l'esempio più eclatante giusto per chiudere questa piccola parentesi è sicuramente il grande dipinto di renato guttuso la battaglia del ponte dell'ammiraglio datato 1952 il dipinto raffigura garibaldi ai mille impegnati appunto a combattere le truppe borboniche nella battaglia del ponte dell'ammiraglio nel 1860 guttuso rappresentò se stesso e molti dei suoi compagni di vita e lotta partigiana nei volti dei garibaldini il dipinto che piuttosto imponente più di tre metri e mezzo per cinque rimase a lungo appeso nel latere della sede del pc a roma ora si trova agli uffizi per chi volesse darci un'occhiata dal vivo la nascita ufficiale delle brigate d'assalto garibaldi è del novembre 1943 ma già nell'estate dello stesso anno la dirigenza comunista si è apposta il problema di come organizzare la lotta a settembre ci sono formazioni che operano in friuli in piemonte e in valtellina queste sono bande molto snelle che colpiscono rapidamente il nemico e si dileguono altrettanto rapidamente in questo periodo si pongono anche le basi della struttura organizzativa delle brigate che è simile a quella di tutte le altre alla base ci sono i nuclei e poi a salire fino alle brigate queste sono poi aggruppate in delegazioni regionali che a loro volta rispondono al comando centrale guidato da luigi longo con al suo fianco pietro secchia come commissario politico nel maggio del 1944 il pc diffonde il suo schema di organizzazione per le brigate che vede il capo partigiano affiancato dalla figura del commissario politico replicando quindi la struttura del comando centrale mentre il comandante si occupa di questioni strettamente militari come può essere l'addestramento la distribuzione delle armi o il fissare gli obiettivi per la banda il commissario si occupava nelle parole di renato sandri dell'orientamento e del morale dei volontari della promozione dei rapporti di reciproca comprensione e amicizia tra questi e la popolazione della tutela delle regole disciplinari vigenti nella brigata anche se può sembrare quindi che le formazioni garibaldine fossero composte strettamente da comunisti e osservassero una rigida adesione al marxismo questo era molto lontano dalla realtà secondo gli agenti di collegamento britannici per esempio non più del 15 o 20 per cento dei garibaldini erano effettivamente comunisti e quando un agente ebbe modo di assistere ad una lezione sul marxismo tenuta dal commissario politico di una formazione riferì alla base che quello che aveva ascoltato era un comunismo a malapena compreso dall'insegnante stesso questa situazione del resto era favorita dalla stessa dirigenza del pc che non percluse mai l'arruolamento quasi a nessuno nelle fila delle brigate garibaldi e sfruttò anche non comunisti per posizioni di comando aldo gastaldi uno dei più importanti comandati di genova era un cattolico come pure lo era luigi pierobon che era addirittura un dirigente della fondazione universitaria cattolica italiana e che nel veneto ebbe un ruolo chiave nella costituzione della divisione garibaldina a teo garemi con cui tanto ebbe a fare il maggiore wilkinson freccia c'erano poi anarchici e perfino qualche ufficiale monarchico insomma l'atteggiamento era spesso pragmatico e si contava sull'educazione sul campo per così dire grazie alla presenza di membri più anziani che magari siano già fatti la guerra di spagna o facevano parte dei network clandestini comunisti del resto poi la figura del commissario politico rappresenta anche nelle brigate di giustizia e libertà e in quelle socialiste e sarà poi adottata anche dal comando volontari della libertà i garibaldini tuttavia e questo importante non si occuparono solo di guerra in montagna una cospicua fetta delle forze del pc almeno il 50 per cento secondo le direttive del partito era infatti delegata in attività di altra natura questi svolgirono sabotaggi in città si dedicavano alla cospirazione al reclutamento di nuove forze all'agitazione contadina industriale all'infiltrazione nelle scuole ovviamente queste due parti erano molto permeabili tra loro e i militanti spesso passavano dal cosiddetto lavoro politico a quello militare e viceversa oltre alle brigate garibaldi vere e proprie poi di lavoro militare si occupavano anche i gruppi di azione patriottica i gap le squadre di azione patriottica i sap e i gruppi di difesa della donna i gdd i gap erano piccoli nuclei incaricati di sabotaggi e assassini nelle città dovevano agire nella massima segretezza e proprio per questo come scrive pietro secchia a differenza delle unità partigiane dove venirono liberamente accolti dai garibaldini senza partito e gli aderenti ad altri partiti antifascisti nei gap del pc venivano reclutati esclusivamente i comunisti i sap erano invece una forma intermedia tra gap e brigate montane operavano in campagna e oltre a svolgere sabotaggi fungevano anche da forma di collegamento tra le forze garibaldine cittadine e le brigate vere e proprie ma i loro compiti erano vasti e vari come scrive luigi longo il campo l'azione delle sap è vastissimo dalla difesa collettiva armata contro i soprusi e le violenze tedesche fasciste per impedire la requisizione del grano degli altri prodotti agricoli e del bestiame a un'azione costante di sabotaggio delle vie di comunicazione compito precipuo delle sap è quello di assicurare la protezione delle manifestazioni popolari di massa e di sviluppare audaci forme di propaganda e di mobilitazione delle masse per la battaglia insurrezionale infine i gdd l'organizzazione femminile della resistenza nate con la spinta del partito comunista ma non esclusivamente le fondatrici dei gruppi di difesa della donna infatti provengono da correnti differenti dell'antifascismo lina fibi e comunista pina palumbo e socialista ad agobetti e azionista inizialmente nate con compiti puramente assistenziali quasi ad essere delle croce orsine dei partigiani le donne si ritagliarono ben presto un loro spazio occupandosi di propaganda trasporto e produzione di esplosivi e partecipando anche attivamente al sabotaggio e alla lotta armata proteste sui luoghi di lavoro ostruzionismo rifiuto di consegnare raccolti furono altre attività svolte dai gdd che contribuirono non poco alla resistenza ad agobetti una delle fondatrici dei gdd fin da subito definì come svilente l'impostazione assistenzialistica dei gruppi e fu una delle promotrici di un impegno più attivo che si registra già dal 1944 tra gli obiettivi di lungo periodo parità salariale e diritto di voto i gruppi di difesa della donna dunque si collocano a pieno titolo nella travagliata storia del movimento femminista in italia dunque questo è stato l'episodio esplicativo sulle brigate garibaldi per fornire un altro po' di contesto ai racconti dal nascondiglio in modo che possiate seguire più facilmente i nuovi racconti o perché no riascoltarvi vecchi e magari afferrare qualcosa in più dalla prossima settimana comunque torneremo ad occuparci delle nostre care missioni il nostro core business per così dire e torneremo a percorrere i sentieri montani in compagnia degli agenti britannici e dei partigiani italiani a a a a Grazie a tutti.